Comunque per i siciliani noi si va avanti, nonostante abbiamo preso consapevolezza oggi del fatto che ora ce ne fosse stato bisogno che non c'è una maggioranza che sosterra questo governo, anche gli interventi degli esponenti della cosiddetta maggioranza non convincono nessuno, pertanto si va chiaramente avanti perché comunque i siciliani ci hanno messo qui dentro a rappresentarli, è chiaro che non credo che si potranno ancora più lamentare delle riforme che mancano perché noi abbiamo letto i loro interventi di un anno fa copia conforme con quelli di quest'anno, dei vari capigruppo che rappresentano oggi la maggioranza, pertanto c'è veramente bisogno di un'operazione verità e anche di un sguardo alla propria coscienza e alla propria dignità nei confronti del popolo siciliano.